Domenica 6 ottobre si ferma a Napoli il tour di Nonno Ascoltami l'ospedale in piazza dedicato alla prevenzione dei disturbi uditivi. Appuntamento a Danza San Carlo dalle 10 alle 19 con la possibilità di effettuare controlli gratuiti da parte di medici specialisti e tecnici dell'udito. Siamo a Napoli per il terzo anno consecutivo e ci tengo a dire che l'ospitalità di questa città è sempre fantastica. Saremo il 6 ottobre presso Anza San Carlo per tutta la giornata, medici specialisti saranno a disposizione dei cittadini per controlli gratuiti dell'udito. Ci tengo solo a dire che quest'anno raggiungiamo il decimo anno e la decima edizione di Nonno Ascoltami. In questi anni abbiamo sensibilizzato tantissimi cittadini, raccomandiamo a tutti di non trascurare il disturbo uditivo, un disturbo subdolo ma che influenza pesantemente la vita di tutti i giorni. La campagna che coinvolge gli ospedali di 36 città in 16 regioni vuole sensibilizzare la popolazione su un problema che in Italia riguarda oltre 7 milioni di persone, il 47% dei quali non ha mai effettuato un controllo uditivo. La sordità rappresenta il più importante fattore di rischio per l'Alzheimer, quindi se io correggo la funzione uditiva consento al paziente di comunicare con il resto del mondo e questo attiva dei processi cognitivi che rallentano il processo patologico che sta alla base della malattia dell'Alzheimer. In piazza a Napoli sarà possibile anche effettuare un esame vestibolare per identificare il rischio di patologie labirintiche. La città tutta è accanto a Nonno Ascoltami che ha proprio questa mission, quella di incontrare ma incontrare in piazza le persone che hanno bisogno di uno screening e quindi che hanno magari non hanno avuto la possibilità di affrontare un tema come quello dell'udito, che è un tema particolarmente importante per le persone sicuramente di una certa età ma anche per le persone in generale che magari non hanno coscienza e consapevolezza di un problema a cui magari possono essere andati incontro e di cui non si sono accorti.